Oh, mamma, insomma, vuoi lasciarmi da sola con le mie amiche? Dobbiamo chiacchierare degli affari nostri, se non ti dispiace. Bernice, cara, vuoi mica avere segreti con la tua mamma, eh? Non penso che tu possa avere segreti con me, Bernice, perciò rimango qui. Non ti ascolto, ho di meglio da fare, come se io rimanessi qui solo per ascoltare le vostre chiacchiere. No, di certo, io sto qui perché sto al caldo davanti al caminetto. Per tutte le canonate del mondo, Bernarda Bernardone, il caminetto è spento. Giusto, mamma, il caminetto è spento. Ma stai zitto, Bartolo, insomma, da che parte stai? Bartolo, accendi il caminetto. Oh, ma certamente adorata Bernarda. Ad ogni modo, signore, non mi dà fastidio se rimane qui Bernarda ad ascoltare. Ecco, vi ho chiamate tutte quante perché io ho bisogno del vostro supporto. Cessa! Calmati, mamma, calmati, stai qui ad ascoltare ma non intervenire. Cos'è che ti preoccupa, Cassandra? Io, Cassandra, tu puoi dire qualsiasi cosa a noi, noi nonnine per sempre. Sì, le nonnine per sempre, ragazze! Ecco, voglio chiamare Angelo e chiedergli il divorzio. Cosa? Oh, cosa, Cassandra, non mi aspettavo una richiesta del genere. No, i doveri sul serio occuparci di divorzio? Amore distrutto, Cassandra, ma tu amare Angelo. Angelo? Cessa, cessa, tu vuoi lasciare Angelo e potevi lasciarmelo, no? Quando ho avuto una figlia con lui. Cosa, Bernarda Bernardone? Ah, no, caro, scusami. Oh, mi sono ricordata di avere una faccenda importante da fare. Devo andare a cacare. Cosa? Dove stai andando, Bernarda Bernardone? Puoi farla nel pannolone! Pum, 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 Bernarda! Signore, io devo assolutamente divorziare da Angelo. Stavo con lui perché non ricordavo di essere una cicognina. Ma ora che ricordo tutto quanto ogni cosa, mi sembra inutile. È stata inutile la mia vita con Angelo. Mi ha anche tradita con tua madre, Bernice. Io non posso stare con un uomo che non amo. Non abbiamo neanche avuto figli, io e lui. Beh, questo è vero, Cassandra, ma Angelo dov'è? Oh, giusta osservazione. Angelo è in America. Sta facendo delle ricerche importanti, signore. Io, allora tu volerai aspettare che Angelo tornare? Così tu dare lieta novella? Tanto lieta non lo sarà, poveretto. Signore, voglio fare una videochiamata. Lo chiamo immediatamente, ma voi dovete darmi il vostro supporto morale. Oh, senz'altro, cara, io ti do anche il mio supporto legale. Gli spilleremo un sacco di soldi, tesoro. So come fare. Ti farò dare gli alimenti. Sarai mantenuta a vita. Dai retta alla tua amica Agata. Oh no, signore. Io non voglio un centesimo da lui. Voglio solo potermi dichiarare a quell'essere mostruoso. Il mostro peloso Franco. Sì, davvero? Cassandra, sul serio? Sì, voglio una famiglia per la mia piccola Cassie. Povera creatura. Avete sentito? La cessa ora avrà due nonni. Wow, che bello. Mi piacerebbe assistere ad un nuovo matrimonio. È vero, è da un bel po' che non si celebrano matrimoni in questa città. A Don Gino scherzeggia un pochino il lavoro, eh? Già, Don Gino non saprà che cosa fare. È troppo tempo che qui nessuno si sposa più. Questa città non la riconosco più ormai. È vero, Cassandra, io ti appoggio. Conquista quell'essere abominevole e peloso. Sì, Cassandra, ma non sarai un po' troppo bella per lui? Cosa? Bernie, ma non lo vedi che è una cessa, cessa? Angelo, Angelo, ti disturbo. Meno male, caro Angelo. No, io non ti amo più. Cassandra, mi dispiace, Angelo, ma ci ho riflettuto e non posso mentirti. Ho intenzione di conquistare un altro uomo, il vero nonno biologico di Cassie. Davvero, mi capisci? Grazie, sei un uomo eccezionale. Ti auguro davvero di portare a termine la tua ricerca scientifica, Angelo. Possiamo rimanere amici. Oltretutto tu lavori per me. Possiamo rimanere capo e dipendente, d'accordo? Sì, Angelo, certamente. Allora mi concedi il divorzio? Ah, ti invando tutte le carte da firmare, ok? Te le fa avere Agatha. Cassandra, hai rifatto tutto così? Certamente ho divorziato. Ora sono una single, ragazze. Andiamo a divertirci? Oh, io anch'io essere nonnina single. Beh, in realtà anch'io, signore. Andiamo a fare baldoria? Ma io sono sposata. Oh, io mi spiace per te, Bernice. Io e le signore dovrei andare a divertirci. Scateniamoci, ragazze, perché tra poco non potrò più farlo. Dovrò fare la signora Saria con il mio nuovo amato Franco. Ma state scherzando? Ma qualcuno vi ha fatto qualcosa al cervello? Non state ragionando correttamente. Cosa significa andare a divertirsi? Buongiorno, professoresse. Buongiorno, caro. Non è il momento di discutere. Stiamo cercando giovanotti. A scuola? Ma che giovanotti vuoi che ci siano a scuola? Dada, eccoci qui. Yo, esserci. Bei giovanotti qui. Cosa fare tutti qui? Oh, ma certo. Oggi c'erano le nuove assunzioni. Esattamente, ragazze. Ero speranzosa. Speravo ci fossero persone da conoscere. Cosa? Cosa? Ma voi non state bene? Signore, ragionate? Abbiamo una certa età. Volete conquistare questi vecchiacci? Cosa? Sta parlando di loro, non di me. Sapete, ho passato tutti i miei 150 anni con Angelo. Beh, no, non è vero. Comunque, quasi tutti con Angelo. E sinceramente, ho perso tutta la mia vita dietro ad Angelo. Una persona che secondo me non mi ha mai amata, veramente. Permettetemi di divertirmi. Non so cosa significhi essere corteggiata o essere portata ad un ballo scolastico. Ho perso molte cose nella mia vita ed ora voglio recuperare. Yo, noi organizzare ballo scolastico, ma certo. Ballo di signore. Cosa è il ballo scolastico? Dei professori? Oh, ma che idea deliziosa. Allora, chi mi piace di più tra tutti questi? Proprio nessuno. Li reputo proprio dei cesti. Cosa? Preside, preside. È inutile, non ti sente. Sta ascoltando la sua musica classica, penso. Ah, già, gli piace ascoltare musica classica per rilassarsi. Beh, signori, siete tutti invitati al ballo scolastico dei professori. Cosa? È così che fate la selezione? I colloqui per diventare insegnanti? Ah, per baco, io mi ero preparato per recitare. Voglio essere l'insegnante di teatro. Io sono lo spione. Non devo essere assunto. Sono già assunto. Beh, sì, siete invitati al ballo scolastico. Si terrà oggi. Cioè, tarda serata. Vi aspettiamo. Che strana scuola. Ci fanno i colloqui ad un ballo scolastico. Vorranno vedere come balliamo. In questo caso sono tranquillo. Sono un gran ballerino. Modestamente mi occupo di recitazione, canto e ballo. Posso fare musical ad Hollywood. Certo che dopo aver passato tutta la mattinata a fare motoria, chi ce la fa? Continuare le lezioni? Dovrebbero proibirlo. Giusto, Isi. Dovrebbero proibire le lezioni. Assolutamente. Io sono già distrutta. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ha scritto latino alla lavagna. Non si fa latino oggi. Si fa matematica. Anzi, sapete che vi dico? No, che cosa ci dice, signora professoressa Bernice? Vi dico che non si fa lezione. Oh, mio Dio, nonna. Ma noi ti amiamo. E ti glorifichiamo. Grazie, care. Non si fa lezione perché voi tutti ora venite al secondo piano e ci aiutate ad organizzare il ballo scolastico delle nonnine. Il ballo d'inverno delle nonnine. Ballo prenatalizio. È un po' lungo come titolo, cara nonna. Dovresti lavorare di più sui titoli. Chiamiamo semplicemente la Winter Dance. Grandma Winter Dance. Cosa stai dicendo? Che lingua parli? Cherry, questo è il ballo delle nonnine per sempre perché siamo in conquista, ragazzi. Venite. E vai? Ma come? Non si fa lezione? Stai zitto, Sebastian. Questa è una grande occasione, sì. E poi un ballo. Voglio partecipare anch'io a questo ballo, anche se ha delle nonnine. Mi fai uscire da qui? No, e non ti ridarò neanche il cellulare, fin tanto che non mi prometterai che convincerai le tue amiche ad andare a Parigi a liberare mia sorella. Ma cosa ci posso fare io? Non posso farci niente. E invece puoi, Fresh. Tu e le tue amiche potete fare sempre qualsiasi cosa. Se vi impegnaste nella ricerca di mia sorella Margaret, sono sicura che Margaret sarebbe già qui. Perciò, Fresh, tu non uscirai da questo bagno, finché non mi darai la tua parola. Forza, sono emozionatissima. Organizziamo questo ballo. Sì, quando ci ricapita un'occasione del genere, non fare matematica, perché organizziamo il ballo alle nonne? Oh, mio Dio, questo è un sogno. Ma io non ho il vestito adatto. Sebastian, su via! Nessuno ti guarderà! Come no? Ma se sono così bello! Insomma, caro, io non direi, eh? Cosa? No, Sebastian, non te la prendere la nonna a gusti un po' antichi. Tu sei bello rifatto. Insomma, classico dei tempi moderni. Non è vero, Cerv, io non sono rifatta e neanche Leo. E lui è bellissimo. Sì, ma sto cercando di tirare sul morale a Sebastian. Oh, certo. Ehi voi, smettetela di suonare. Ma ci stiamo esercitando. Basta! Basta, ok? Ma è così non riuscirò mai ad entrare nella banda della scuola. Aia! Ciao, Freddy. Come stai, Aia? So che sono accadute un po' di cose nella tua vita, tipo la ricomparsa di tua madre e anche di mio padre, cioè il mio finto padre. Insomma, mia madre è qui con quello che credevo essere mio padre, colui che mi ha cresciuta fino ai miei tredici anni o meno. E, beh, ora hanno adottato due figlie e non si occupano più di me. Perciò sì, sto favolosamente bene, guarda. Forza, cari, venite qui. Andate a chiamare anche le altre professorisse, che non stanno facendo un bel niente. Chiamate tutti qui, bisogna organizzare il ballo. Ma chissà perché vogliono organizzare questo ballo. Insomma, come gli è venuto? Si sono svegliate stamattina e hanno deciso di organizzare un ballo. Non ci interessa nulla, Aia, l'importante è non fare matematica. Signore, lasciatevelo dire, siete bellissime. Young, tu Bernice, tu essere fancy! Oh, signore, è vero, siamo fancy. Che ne dite di chiamare questo ballo la Fancy Night? Sì, mi sembra un'ottima idea, finalmente abbiamo il nome. Guardate, lì ci sono i vostri, beh, giovanotti, insomma. Io sono una donna sposata, ballo da sola. Ja, ma dov'è essere Cassandra a questa festa? Essere stata voluta fortemente da Cassandra e ora lei non essere qui? Già, voleva divertirsi un po' perché non ha mai partecipato ad un ballo scolastico. Ma su via, io non ci credo. Come fa a non aver partecipato mai ad un ballo scolastico? Non si è mica messa con Angelo quando era un adolescente. A 150 anni Cassandra la sta facendo più tragica del dovuto. Ja, questo essere vero chissà quanti ragazzi avere avuto Cassandra. Già, signore, anch'io lo penso. In fondo è proprio una bella donna. Ci sa! Sapete, io non l'ho mica capita la sua storia con Angelo, insomma. Da quant'è che stavano assieme, come si sono conosciuti. Questo non ce l'ha mai detto. Io avrei sempre pensato che Angelo avrei catturato Cassandra. Perché lui sapeva che Cassandra è essere fata. Fate portare fortuna a chi possiede fata. Perciò Angelo avere usato Cassandra. Ah, non lo so, Vladimira, questi discorsi fantasiosi. Cassandra ce lo avrebbe detto. Certo, e... Un momento. E se invece non avesse il coraggio di ammetterlo? Cosa? Sto pensando che quando io a scuola venivo bullizzata. Cosa? Tu venivi bullizzata, Bernice? Sì, perché ero brutta. Un cesso, scorregiona anche. Oh, Bernice, quanto essere triste io per te, povera piccola vecchia Bernice. Povera cara. Sì, ma l'ho superata. All'epoca ci stavo male. Ma il succo del discorso è che non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Ma io soffrivo dentro di me. Parlarne mi avrebbe fatto sicuramente bene. Ma non riuscivo a dire neanche alla mia mamma che ero una cessa scorregiona e che mi prendevano in giro per questo. Oh, capisco, Bernice, ma cosa c'entra questo con Cassandra? Dico che magari lei si sente usata da Angelo. Non è che vuole divorziare solo perché pensa che lui l'abbia usata? Oh, usata per sua fortuna? Cioè, fortuna di fata. Sì, magari vuole conquistare questi giovanotti per sentirsi bella. Perché in fondo nel suo cuore soffre per ciò che ha fatto Angelo. Si sente usata, ragazze. Perché lui le ha sempre nascosto la verità, cioè che sapeva che lei era una fata. Oh, povera, povera Cassandra. Ora dobbiamo trovarla. Oh, nuova missione, non più conquista anzianotti, ma potere di amicizia di nonnine eleganti. Nonnine fancy. Le fancy nonnine. Ma allora qui non balla nessuno? Oh, che festa. È proprio una festa da nonnini. Se basti, andai, balliamo almeno noi. Ah, meno male. Ehi, Vivi, dov'è tuo fratello? Perché non è a scuola? Ehm, sinceramente non è tornato a casa. Cosa? Ah, ti va di ballare? Ehm, ok. Sì, la sto conquistando, ragazzi, la sto conquistando. Freddy, non ti montate la testa. Ti ha dato solo l'ok per un ballo, lei, ama morti. Oh, che crudeltà, Isi. Forza, signore, troviamo Cassandra. Oh, Cassandra starà piangendo, povera triste Cassandra. Come abbiamo fatto a non accorgercene prima. Cassandra aveva bisogno di avere delle amiche al suo fianco per confidarsi. Oh, lei sta soffrendo in silenzio, povera, povera Cassandra. E noi qui a festeggiare. Cassandra, Cassandra, cara. Oh, Cassandra, tu dove essere? Wow, professoresse, come siete eleganti. Ah, figliolo, cerca di non provarci con noi, eh. Siamo un po' grandi per la tua età, tesoro. Oh, noi essere ancora attraenti. Sì, Cassandra, Cassandra. Eh? Cosa fare voi con abiti eleganti a scuola? Perché non essere in classe? Oh, preside, sono le sei passate, eh. Cosa? Sì, sono le sei passate. Noi qui ci stiamo divertendo. C'è un ballo a scuola. Cosa? Cosa stare facendo qui in mia scuola? Ah, no, 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 nein, nein, nein. E avere organizzato ballo. Sono stata io, Vlad. Io essere tua madre, tu portare rispetto. Se mamma dire che essere tempo di fare festa, allora tu a consentire a fare festa. Ma, mamma, qui sta essere mia scuola. Io essere preside. E io essere tua mamminen. bravissima vladimira gliel'hai fatta vedere e le hai suonate di santa ragione oh ma noi non perdere tempo cassandra oh povera cassandra questo è un urlo di dolore oh nein io non avere coraggio di entrare lei essere affronta lei essere stata usata da angelo lei soffrire oh quanto mi dispiace per cassandra povera cassandra dobbiamo ascoltarla farla parlare farle uscire il dolore che ha dentro deve assolutamente confidarsi con noi noi siamo le sue amiche si cassandra può contare su di noi e lei è una bellissima signora non ha bisogno di una festa per conquistare dei giovanotti io ho vendetto cassandra cassandra non piangere eh cassandra cosa il mostro ciao signore scusate non sono venuta alla festa ma diciamo che sto dando una festa privata cosa tu non stai piangendo oh no stavo ridendo mi ha fatto così sorridere franco ha uno spiccato senso dell'umorismo 18 non ha talento artistico però cosa cassandra tu non stare piangendo tu non essere disperata per colpa di angelo oh no 18 perché mai mi ha concesso il divorzio sono al settimo cielo oh cassandra noi pensavamo che tu fossi triste per tutta la storia di angelo oh no signore io sono così felice finalmente sono libera ma ho capito una cosa ragazze era inutile conquistare degli altri signori quando nella mia testa e nel mio cuore ho solo franco cosa tu essere innamorata cassandra come è possibile l'hai visto solo poche volte noi fateci innamoriamo a prima vista ed è stato subito amore a prima vista per me oh cassandra anche per me anche se devo dire che mi piacerebbe tu fossi un po' più pelosa cosa oh allora beh in questo caso vi lasciamo soli no cosa oh io cassandra e franco franco dove eravamo rimasti questo essere piccolo escremento no cassandra stavo provando a fare una montagna non sembra una montagna tesoruccio oh già tesoruccio mi chiami sai mi spiace per l'altro giorno che non abbiamo potuto cenare assieme lo so ma c'era bernarda che ci ha paralizzati con la frite ma vedrai ci possiamo rifare ed ora perché non organizziamo il nostro matrimonio cosa sta parlando di matrimonio io hai avere sentito vuole sposarlo cosa non stiamo accelerando un po' troppo i tempi no di certo io voglio la mia cassie e cassie merita di avere una famiglia che la accolga perciò io e te mio caro ci sposeremo ah wow sai mia moglie mi ha abbandonato anni e anni fa perciò sono libero ancora per poco tesoruccio presto ti sposerai con me e vivremo con la piccola cassie oh dobbiamo discutere anche sui genitori di cassie dovresti farmeli conoscere ah certo cassandra certo organizziamo una cena ma senza bernarda oh ma certamente cosa cosa sta succedendo sul serio cassandra vuole sposarsi un coso peloso lei che è così abituata a depilarsi io ho lei avere depilato pure piccola cassie ed ora vuole un uomo peloso è proprio vero che noi donne a volte siamo decisamente incontentabili beh signore non è il momento di scatenarsi c'è una festa che ci attende pardon oh vernice sentiti libera di scoreggiare noi non ti bullizzeremo mai per questo io anzi noi scoreggiare assieme a te e vai ho le migliori amiche che si possano desiderare le amiche scoregine Grazie a tutti